Per quanto riguarda la legge elettorale, il Governo ci tiene a separare questa questione dal referendum. Le aperture del Presidente del Consiglio Renzi su possibili modifiche della legge elettorale come li trovano? Disinteressati. Renzi ha tenuto per mesi in scacco il Parlamento per tentare di costruirsi una legge elettorale che gli garantisse di vincere le prossime elezioni. Poi ha capito che questa legge elettorale, pessima che lui ha fatto, non gli garantisce di vincerle e adesso cerca di modificarlo per trovare un'altra legge elettorale che gli consenta di vincere le elezioni. Il problema è che quando fai politiche pessime non c'è una legge elettorale che possa garantirti di vincere le elezioni. Devi fare delle politiche decenti perché la gente voglia votarti. A noi non interessa, è un tema che Renzi si deve smazzare da solo perché noi vorremmo parlare dei problemi degli italiani.